Andiamo avanti, vai vai approfittiamo Una piccola pausa, io come al solito vorrei ringraziare i miei compagni A parte ringraziare Ferdinando perché comunque è veramente un grande applauso Facciamoglio perché se lo mergo Grazie, sì però piano eh Ho detto 20 euro applauso che chiedi Budget 100 euro Facciamo 15 euro E' caro eh Vorrei fare altri grandi applausi per i miei compagni d'avventure Il maestro Luigi Notte Marco Petrozzi meglio conosciuto come il Cavaliere Nero Potete immaginare perché il Cavaliere Nero Non lo spiego io però